Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha un piano B per San Siro nel caso in cui le due squadre milanesi dovessero abbandonare definitivamente il progetto Meazza. Lo ha spiegato nella sua prima diretta Instagram per la rubrica Cosa in Comune. Se una partita è gestita dal comune di Milano o da quello di San Donato, con tutto il rispetto cambia molto. Noi per le partite mettiamo in campo circa 200 vigili. Se il Milan dovesse spostarsi, il nuovo comune quanti agenti dovrebbe assumere? Queste le parole di Sala, che ha snocciolato una serie di ragioni per cui i club calcistici milanesi dovrebbero essere spinti a sposare la causa San Siro. E poi la gente come ci arriva, come parcheggia e i vincoli urbanistici non è una passeggiata, ha proseguito il sindaco. Milan e Inter hanno bisogno di patrimonializzare e per farlo acquistare uno stadio sarebbe la cosa migliore, anche in termini di garanzia per eventuali finanziamenti, ha spiegato Sala. Se tuttavia alle squadre non dovesse interessare nemmeno il progetto WeBuild, la via più plausibile sarebbe quella dei concerti. Ho già preso contatti, farei riferimento a due o tre multinazionali che si sono dette interessate, ha spiegato il primo cittadino. In caso di risposta positiva da parte di due club, il sindaco ha invece proposto due soluzioni per l'accessione del Meazza, con bando pubblico, o in maniera definitiva e immediata, o concedendo a Milan e Inter il diritto di superficie per 90 anni. Considerando che il comune non vuole guadagnarci, bensì minimizzare i rischi. A seguito della diretta, è giunta la replica da parte del consigliere leghista Samuele Piscina, che ha detto Mi fa piacere che a mezzo social il sindaco rilancia alcune delle proposte che la Lega gli ha presentato in questi lunghi anni di immobilismo. Ma non basta. Serve un progetto serio di rigenerazione del Meazza, che preveda almeno la chiusura del tetto e la realizzazione di un impianto di riscaldamento per poterlo utilizzare 365 giorni all'anno. Per attuarlo, prima di ogni cosa, servono i fondi. Ci dica quindi come saranno recuperati.